Che tipo di risultati si possono ottenere lavorando la propria voce con la fisiologia vocale applicata? Quando mi fanno questa domanda io di solito faccio ascoltare come suonava la mia voce prima di cominciare a farci un lavoro approfondito proprio attraverso la fisiologia vocale applicata. Ve la faccio sentire tra un attimo, ascolterete come suonavo mentre leggevo il discorso di un uomo politico durante un'esercitazione all'università. Attenzione, la registrazione è stata fatta su un'audiocassetta dell'epoca per cui la qualità della registrazione in sé non è perfetta. Però fateci un po' la tara e provate ad ascoltare come suonava la mia voce. È stato possibile perché sostenuto da una straordinaria spinta ideale e da un'altrettanta ferma volontà d'avanzamento. Entrambe, e l'intervento dell'onorevole Pettering lo ha bene messo in luce, devono continuare a motivare tutti noi europei. Non potrei trovare parole migliori per descrivere... Ascoltare la propria voce registrata può generare una sensazione di imbarazzo e anche di rifiuto. Oh no, ma io non suono davvero così, è davvero così la mia voce? Non mi piace? Mamma mia! Io questa sensazione di imbarazzo e di rifiuto ce l'ho ancora, ma ce l'ho ancora solo quando ascolto questo tipo di registrazioni, cioè quando ascolto come suonavo una volta. A 23 anni, dal punto di vista anatomico, io ero un uomo fatto, e cioè non c'è nessuna differenza anatomica tra il me di allora e il me di oggi. Semplicemente riesco a mettere in vibrazione le stesse strutture anatomiche in maniera completamente diversa. Questo non è il risultato di un corso di edizione. Non ho imparato a controllare il mio diaframma attraverso degli esercizi di respirazione. Non ho imparato a proiettare la voce. Non ho imparato ad assumere una postura corretta in modo che la voce funzioni meglio. Non ho imparato degli esercizi di respirazione. Non ho imparato degli esercizi di riscaldamento vocale. La fisiologia vocale applicata funziona in maniera completamente diversa dagli altri metodi vocali. E quanto tempo ci vuole per ottenere dei risultati come questi? La risposta è dipende. Quello che però è sicuro è che la maggior parte dei partecipanti ai miei workshop riesce ad ascoltarsi produrre una voce abbastanza diversa da quella che conoscono di solito, da quella che producono tutti i giorni e che poi magari quando ascoltano registrata non piace, e producono una voce più tridimensionale, più profonda sul piano del timbro, non più grave, più tridimensionale, più autentica e più vibrante, più ricca. Riescono a farlo riducendo lo sforzo che gli costa produrla. Il modo in cui la mia voce si è trasformata dipende unicamente dalla fisiologia vocale applicata. Non ho mai utilizzato nessun altro metodo per lavorare sulla mia voce. Se quando ascolti la tua voce registrata non ti piace, ti genera imbarazzo o rifiuto, non è normale. Vuol dire che quella che produci tutti i giorni e che ascolti registrata non è la tua vera voce. La tua vera voce giace sepolta sotto anni e anni di abitudini, inconsapevolezza e di imitazione di modelli che nemmeno ti accorgi che stai imitando. La buona notizia è che si può riportare alla luce del giorno la tua vera voce ed è proprio questo che si fa attraverso la fisiologia vocale applicata. Io perlomeno ho fatto così.